Ci troviamo all'esterno dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, a Torre del Greco in via Montedoro. Alle mie spalle, come potete vedere, è stata installata una sbarra automatica che impedisce i genitori di entrare, di parcheggiare in totale sicurezza. Ebbene sì, perché questa sbarra limiterebbe l'accesso ai veicoli del solo personale scolastico. Genitori costretti a sostare lungo i bordi della carreggiata in una strada nevralgica come quella di via Montedoro, con tutti i rischi che ne conseguono. Papà e mamme costretti a parcheggiare lungo le strade sui marciapiedi, compromettendo, rischiando di compromettere la propria sicurezza e quella dei loro bambini, in quanto a pochi passi da qui c'è l'ospedale Maresca, quindi il rischio è quello che passino di frequente autoambulanze e autobus di linea. In particolare sarebbe l'assenza totale di vigili urbani a destare preoccupazione nei genitori, che allarmati decidono di rivolgersi alle nostre telecamere. Mamme dei bambini delle scuole elementari li devono lasciare qua fuori e quindi il bambino deve procedere dentro a scuola. Oggi diciamo non piove, ma i giorni che piove, come si può fare? Non è fattibile lasciare una bambina qua fuori. A parte tutto questo c'è un traffico interminabile, alle 8 di mattina c'è caos sui marciapiedi, l'ambulanza ha problemi a passare, il bus che scende altrettanto, una strada trucciolevole che se una mamma scende dalla macchina, che piove con la bambina e con l'ombra in mano, rischia anche di cadere, di farsi male, di venire investita mentre sale l'ambulanza. È bel tempo, è bel tempo. E quando è maltempo che si fa per questi bambini? A parte il traffico qua non si sa dove puoi parcheggiare, ci sono mamme che parcheggiano sopra l'ospedale Maresca per arrivare fino a piedi. Dietro alla scuola abbiamo molti metri quadri di terreno, magari fare un grande parcheggio e le mamme possono entrare molto facilmente creando meno confusione per la strada e dare accesso libero a ambulanza, bus, perché veramente la cosa sta diventando proprio insostenibile, non se ne può più. Quindi c'è un'assenza di vigili urbani? Sì, 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 completamente. Vigili qua non ne trovi mai, non ne vedi proprio. Bisogna tutelare questi bambini, bisogna tutelare il malato che arriva nell'ambulanza, cioè ha un problema serio, non può passare. Ripeto, è insostenibile la cosa, bisogna agire subito e presto. Proprio nei giorni scorsi il dirigente della scuola, Raffaele Palomba, aveva chiarito ai microfoni di TV City le ragioni che hanno portato all'installazione della sbarra automatica. Per evitare assembramenti, spiega, a malincuore abbiamo dovuto riservare l'accesso al solo personale scolastico. Grazie. 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 Grazie.